Siamo arrivati all'ultima canzone tra le escluse, la canta questa bellissima biondina che arriva da Napoli. Da Napoli, è la più vecchia del gruppo, ha otto anni, ci vuole pazienza, gli anni passano per tutti, cara mia, come ti chiami? Ornella Bazzini. Ornella, sì, ha otto anni, già arrivata a otto anni. Va a scuola, naturalmente, sei brava a scuola? Sì. Di classe fai? Terza. Terza, è una classe molto pericolosa, è la classe di Richetto, mi raccomando, studia, mica fai come Richetto. Senti Ornella, allora, ascoltiamo Io con chi sto, che è l'ultima, come vi dicevo, tra le canzoni escluse, è la canzone che piace a Marielle, è così, la dedichiamo a Marielle, d'accordo? Tutti quanti? Allora, ascoltiamo Io con chi sto. Non so come andate d'accordo E non so come andate d'accordo, se non c'è più niente a dire sì, voi dite che è giusto lasciarsi, voi dite che è giusto lasciarsi, però... Io con chi sto, avete parlato di affari, di modi di e di penari. Io con chi sto, avete parlato di affari, di penari, di penari, di penari, di penari. Io con chi stai, avete parlato di dorad hatred, di penari, di penari, di penari, di penari, di penari, di penari. Grazie a tutti. Grazie a tutti.